Ora polemiche per le parole della deputata 5 Stelle che ieri alla Camera ha invitato a ricordare tra le vittime della strage di Nassiria anche il kamikaze che provocò la strage. Critiche arrivano anche dal suo stesso movimento. Bruno Luvera. Per vento ieri dell'onorevole Corda sul kamikaze è stato un errore? Se lei si è scusata oggi, io ritengo che quando si fa una commemorazione delle vittime di Nassiria si deve parlare delle nostre vittime, dei nostri soldati e basta. Ciò nonostante poi si possono aprire in altri momenti dei dibattiti sul contenuto dell'intervento della collega Corda, la quale si è scusata, ma se sbaglia lei, sbagliamo tutti noi. Non è che ha sbagliato lei, sbaglia il Movimento 5 Stelle e noi alle volte sbagliamo.